La fede non è un'ideologia, non è un insieme di dottrina stratte. Prendersi cura della purezza della fede per preservarla è uno dei compiti della congregazione per la dottrina della fede, che il Papa ha sottolineato nel discorso alla plenaria del di Castero. Se la verità esige la fedeltà, ha detto, questa cresce sempre nella carità e nell'aiuto fraterno per chi è chiamato a maturare o chiarire le proprie convinzioni. Riguardo poi al metodo del vostro lavoro, so che il vostro di Castero si distingue per la prassi della collegialità e del dialogo, perché la Chiesa è il luogo della comunione. Papa Francesco ha anche elogiato il lavoro che si sta svolgendo nel trattare le problematiche delicate circa i cosiddetti delitti più gravi, in particolare i casi di abuso di minori, ed ha anticipato che si studia la possibilità di collegare il di Castero della dottrina della fede con la specifica commissione per la protezione dei fanciulli dallo stesso Papa istituita. Grazie a tutti.